Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi torna la rubrica sul club del libro, quello che organizzo tutti i mesi insieme a diverse altre persone che amano la lettura quanto l'amo io. Se non sapete di cosa sto parlando vi lascio qui il link dove potete trovare il primo video che ho fatto su questo argomento dove vi spiego in pratica in che cosa consiste il club del libro, come lo organizzo e come scegliamo tutti i mesi la lettura da fare insieme. Durante questo video vi parlerò di come è andata la riunione e di quali sono state le opinioni espresse in merito ai due titoli che vi avevo detto appunto nello scorso video e che abbiamo letto durante questo mese. Ovviamente alla fine del video dirò anche quali sono i titoli che avevo scelto e la tematica che avevo scelto per il mese che verrà, quindi per novembre. E voi siete invitati se avete voglia a leggere i titoli che abbiamo scelto per poi poterne parlare insieme proprio sotto a questi video. Bene, direi di cominciare subito. Allora la serata del club del libro di ottobre si è svolta proprio pochi giorni fa e non abbiamo potuto farla nella sala dove la facciamo di solito, quindi ci siamo dovuti spostare, dato che era occupata, in casa della mia mamma perché per fortuna ha un grande salotto con una grande tavola dove era possibile starci tutti quanti. Infatti come vedete anche dalle immagini che vi lascio qua e là, eravamo veramente in tanti. Ci sono stati non soltanto i vecchi membri del club del libro ma ce ne erano anche di nuovi. Abbiamo avuto due new entry, quindi due signore che oltre ad essere delle grandi lettrici amano anche molto scrivere, hanno autopubblicato alcuni libri, quindi insomma è stato veramente un arricchimento per il nostro club. Come ogni volta abbiamo bevuto il tè che la mia mamma ha servito in queste tazzine meravigliose comprate a Istanbul e un dolce all'arancia che io e mia sorella abbiamo preparato il pomeriggio. E niente, la discussione poi è iniziata. Se vi ricordate, il tema dello scorso mese era quello di leggere libri che fossero stati molto pubblicizzati dalle varie case editrici che avevano mandato tante copie in giro ai vari box tuber in modo che facessero pubblicità. La domanda era proviamo a leggere due di questi libri e capire se la pubblicità che ha fatto la case editrice meritava ecco oppure no. E vediamo quale sarà la risposta. I due titoli selezionati lo scorso mese, se vi ricordate, erano Vox e Come fermare il tempo. Io ho letto Come fermare il tempo, quindi di Vox vi parlerò ovviamente tramite le parole degli altri membri del club. Chi ha letto questo libro? Vabbè, vi dico due parole velocissime sulla trama perché non voglio perdere troppo tempo su questa. Comunque siamo in un mondo distopico in cui le donne hanno la possibilità di dire solo 100 parole al giorno. Hanno un contatore di parole che è praticamente un braccialetto che dà loro la scossa sempre più forte man mano che sforano il limite delle 100 parole. Coloro che hanno letto questo libro quindi hanno fatto prima un riassunto della trama e poi abbiamo toccato chiaramente i vari argomenti spinosi che erano all'interno del libro. Primo fra tutti sicuramente il fatto che la decisione di limitare in questa maniera le donne era presa da un prete, se non mi sbaglio, correggetemi se l'avete letto, comunque da qualcuno legato alla religione cattolica. Quindi ovviamente anche qui si è aperto un dibattito, sarebbe possibile, oggi non sarebbe possibile e ovviamente gli schieramenti sono quelli che troviamo abitualmente, i contrari a qualsiasi tipo di religione perché vengono viste tutte in maniera troppo costrittiva, troppo limitativa delle nostre libertà individuali e soprattutto non ha l'avanguardia per quanto riguarda il modo in cui vengono trattate le donne e coloro che invece essendo religiosi difendono la propria fede dicendo che una realtà come era quella descritta nel libro non è assolutamente quella che viene predicata oggi. Sta a voi capire da quale parte io stessi, se mi conoscete lo sapete. Coloro che hanno letto il libro poi ovviamente hanno parlato anche di quanto comunque le tematiche affrontate fossero importanti e fossero state trattate bene, quindi l'ansia provata anche loro quando le donne dovevano rimanere entro questo limite assurdo del cento parole e il loro sollievo nello scoprire che non muore mai in realtà una fetta della popolazione che considera aberrante, che considera totalmente assurda una legge del genere che lotta perché non soltanto venga abolita ma perché anche non ritorni mai più. Poi sono stati sottolineati ovviamente anche i difetti perché quasi nessun libro è perfetto, no? e quindi è stato detto in realtà che in alcune parti il libro è abbastanza noioso, quindi ci sono state delle parti piuttosto lente e in più ci sono stati alcuni episodi che erano superflui, sono stati considerati superflui o meglio, c'erano delle parti in cui hanno detto ma perché ha voluto inserire questa scena, qual è il significato? A volte ecco addirittura diventavano quasi incomprensibili. Ovviamente anche in questo caso chiedo a voi se l'avete letto di darmi una vostra opinione in merito. Concluso quindi questo discorso è stato chiesto ma allora la pubblicità che la casa elettrice ha fatta a questo libro merita o non merita? Vale questo libro tutta questa sponsorizzazione che è stata fatta? Beh la risposta che è uscita fuori dalla discussione del libro è no, assolutamente questo libro non vale tutta la pubblicità che è stata fatta non è stato considerato un libro eccellente, anzi è stato considerato abbastanza, io definirei mediocre, ecco sentendo l'opinione degli altri una bella tematica purtroppo affrontata secondo loro nella maniera sbagliata. Subito dopo quindi abbiamo cominciato a parlare di come fermare il tempo, il libro che ho letto anche io. Come sapete, infatti questo non l'ho fatto vedere su Instagram però di solito lo faccio vedere, ho questo quaderno, nella mia pulizia dei quaderni e delle agende ho ritrovato questo nel mio periodo da adolescente dark e quindi ho deciso, dato che era praticamente nuovo, ho deciso di usarlo proprio per il cap del libro e mi sono presa un po' di appunti, cioè giusto un po', sul libro appunto come fermare il tempo e me li sono presi qui in modo da potermi ricordare i lati positivi e negativi che volevo sottolineare. Questo libro è stato letto dalla maggior parte di noi quindi la discussione è durata un po' più a lungo. Anche qui due parole velocissime sulla trama, il protagonista è un uomo che ha una patologia ovvero quella di invecchiare molto 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 più lentamente delle persone normali. Quindi quando il racconto è ambientato ai giorni nostri lui dimostra all'incirca 40 anni ma in realtà ne ha oltre 400. Lui è alla ricerca da 400 anni di sua figlia che sa essere affetta dalla stessa patologia ma che non è mai riuscito a ritrovare, vive nel ricordo del suo primo grande amore che l'ha fatto talmente tanto soffrire perché ovviamente lei era una persona come noi quindi è morta mentre lui è stato costretto ad andare avanti con la sua vita quindi vive nel ricordo di questo amore perduto incapace di provare sentimenti per chiunque altro. Lui inoltre fa parte di una società che si occupa della protezione delle persone che hanno questa patologia e le protegge da chi vorrebbe catturarli per fare esperimenti o comunque per utilizzarli come cari umani per scoprire il segreto della loro longevità e la società gli aiuta anche a cambiare identità ogni 8 anni per non farsi scoprire dalle persone comuni, per non far scoprire che loro non invecchiano o quasi. E niente, questo è proprio il succo della trama. Allora, chiaramente dopo aver parlato della trama abbiamo parlato di ciò che ci è piaciuto e i lettori di questo libro l'hanno veramente amato. Ci sono stati due punti principali che abbiamo toccato e che sono stati sottolineati come i punti più belli. Il primo ovviamente sono i salti temporali perché il protagonista si racconta della sua vita ai giorni nostri ma quando ricorda il passato ovviamente ci sono degli episodi ambientati nei 400 anni precedenti. Quindi facciamo dei salti nel tempo in periodi storici interessantissimi che secondo me e secondo noi sono descritti molto bene. Ci troviamo proprio dentro le strade di Londra appunto del 1600 o nelle esplorazioni e alla scoperta del mondo. Insomma, ci sono vari episodi che sono stati descritti nella maniera giusta, non sono pesanti anzi sono molto accattivanti e fanno scorrere la lettura ancora più velocemente. Il secondo punto principale e da elogiare all'interno di questo libro è sicuramente la descrizione del tempo o meglio la descrizione del rapporto con il tempo che ha il protagonista ma che noi stessi abbiamo infatti molto spesso ci troviamo a riflettere sulla nostra condizione quindi il vivere ancorati al passato oppure il vivere perennemente proiettati verso il futuro spaventati dal futuro, la difficoltà di viverci e di goderci il presente o addirittura la capacità di rendere la nostra vita che sia lunga o che sia breve degna di essere vissuta. Le riflessioni che il protagonista fa all'interno del libro sono veramente interessanti ne ho sottolineate moltissime e in più c'è da dire che il protagonista evolve durante il proseguire della vicenda le sue opinioni cambiano, il suo percepire il mondo e il tempo cambia e questo ovviamente ci aiuta anche a noi a cambiare le nostre opinioni o meglio ad evolverla per cercare di comprendere il tempo che sembra un'entità difficile da capire. Per questo insomma il libro è generalmente piaciuto molto in particolare a me per esempio uno dei punti che sono piaciuti di più è stato il capire il punto di vista di lui quando lui si sente condannato quando sente di avere sulle spalle un peso che è questa vita lunga nonostante molti di noi ambirebbero a vivere molti più anni di quanto la natura ci concede lui ci fa vedere anche i lati negativi di questa vita enormemente lunga soprattutto dell'essere uno dei pochi ad avere questa possibilità e comprendiamo il suo punto di vista e questo chiaramente ci fa provare empatia per il protagonista alla fine poi io sono stata quasi l'unica devo dire ad aver sottolineato alcuni difetti che ho trovato all'interno del libro in particolare c'è stata una donna con la quale insomma parlavo e ci siamo trovate veramente su due posizioni opposte io ho trovato che la tematica del tempo sia stata affrontata benissimo e che l'autore a forza abbia voluto inserire alcune scene di azione secondo me descritte con troppa velocità e quindi con troppa superficialità queste sono principalmente alla fine quindi ovviamente non le svelerò però se l'avete letto sapete a cosa mi riferisco sono scene per l'appunto poco approfondite quindi rasentano quasi l'assurdo nel senso che non sono assolutamente realistiche e forzatissime per esempio anche la società che viene descritta questa società che protegge le persone che vivono così a lungo l'ho trovata inutile, l'ho trovata poco curata quindi ho trovato difficile comprendere a quali pericoli andassero incontro queste persone se venissero scoperte e ho trovato totalmente assurdo e ingiustificato il comportamento del capo di questa società stesso discorso se l'avete letto sapete a cosa mi riferisco un comportamento veramente insensato questo perché? perché l'autore non ha approfondito a dovere la psicologia di questo personaggio e quindi lo ha reso quasi ridicolo quindi con l'altra lettrice che ha letto questo libro ci siamo tra virgolette ovviamente un po' scontrate su questo punto perché secondo me, questa è la mia opinione lei dava delle giustificazioni, delle spiegazioni ai comportamenti del capo di questa società ma secondo me queste spiegazioni le aveva trovate dentro se stessa e non dentro al libro ci si poteva arrivare a logica ma erano comunque campate in aria ecco secondo me però come ho detto ognuno ha le sue opinioni anzi sono curiosa di conoscere la vostra sia diversa dalla mia inoltre lei lo ha definito un saggio filosofico questo libro mentre secondo me nonostante sia un libro che fa molto riflettere che si legge benissimo, è una storia vincente, accattivante e come ho detto che fa pensare rimane un romanzo quindi non una cosa così profonda come potrebbe essere un saggio filosofico però ecco anche questa è una piccola divergenza di opinioni per concludere abbiamo chiesto allora a questo punto è meritata tutta la pubblicità che la casa editrice ha fatto a questo volume? sì, in questo caso la risposta è stata sì perché il libro è comunque un bel libro si legge molto bene e come ho detto è avvincente, accattivante e secondo me molti lettori lo ameranno quindi la casa editrice ha fatto bene a sponsorizzarlo a questo punto quindi siamo passati alla seconda fase del club di lettura e quindi a parlare dei titoli per il prossimo mese mi sono resa conto che se voglio fare una riunione a novembre e una a dicembre tra una riunione e l'altra passerà poco meno di un mese quindi è per questo che il tema di questo mese saranno libri brevi quindi libri con meno pagine di quelle a cui siamo abituati solitamente per avere il tempo di leggerli in meno di un mese i titoli tra cui dovevamo scegliere erano cinque e tutti erano diciamo generi completamente diversi ve li faccio vedere il primo è Ikigai, il metodo giapponese trovare il senso della vita per essere felici quindi un libro di autoaiuto ve ne ho parlato nel video in cui vi faccio vedere gli acquisti di Firenze libro aperto ah e in questo caso il libro ha circa 140 pagine il secondo libro è una lettera quindi non so se si possa definire un romanzo epistolare perché in realtà è soltanto una lettera che l'autrice ha scritto a sua sorella che scopre di aver avuto e di essere morta due anni prima della sua nascita e sto parlando dell'altra figlia di Annie Arnault che conta circa 80 pagine il terzo libro invece è un romanzo, un semplice romanzo in questo caso è Bollo di paglia di Laura Fusconi che io sto leggendo proprio in questo momento conta all'incirca 230 pagine e niente è l'unico che sforra le 200 pagine però in realtà come vedete è scritto veramente molto grande quindi si legge velocemente è la storia di alcuni personaggi che vivono in un paesino di campagna italiano una parte nel 1900, negli anni 40 insomma e una parte ai giorni nostri una lettura molto intrigante che mi sta piacendo molto il quarto libro era un classico quindi è La fattoria degli animali che conta circa 150 pagine, 125 pagine non ricordo comunque è abbastanza breve anche questo e la storia non ve la sto neppure a dire perché ovviamente la conoscete tutti e infine l'ultimo è una raccolta di racconti storie assassine che appunto raccoglie alcuni racconti non tutti prevalentemente insomma tema omicidio però comunque è una lettura molto interessante che ha letto, ha fatto mia sorella e che mi ha sempre consigliato di leggere perché dice avere molte storie carine e particolari ecco anche in questo caso alla fine come vedete da qui abbiamo votato quali libri leggere per il prossimo mese e i due più votati sono stati L'altra figlia di Annie Arnault eccola qua e La fattoria degli animali a dimostrazione che i classici hanno una marcia in più ecco diciamo e nulla quindi saranno questi due titoli che dovremo leggere ovviamente ognuno può leggere un solo libro io vedrò se riesco a trovare il tempo di leggere La fattoria degli animali che mi piacerebbe tantissimo leggere leggerò quello altrimenti L'altra figlia io l'ho già letto quindi mi darò una scorza alla storia anche perché sono 80 pagine in modo da potermi prendere qualche appunto per la discussione e se non ho tempo insomma farò così ecco bene ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto finisce qui spero di non averlo fatto troppo lungo fatemi sapere tutte le vostre opinioni sui libri che ho nominato e se deciderete di leggere uno dei titoli che sono stati scelti così che insomma possiamo leggerli insieme come sempre vi ringrazio per iscritti e commenti alla prossima ciao ciao